Ok, vai sparami. Come prima abbiamo sparato Crypto. Oddio, no! Cosa? È andato! Vado! Oddio! Oddio, ti l'ha visto? Per favore! Non posso morire così! Per favore! Ho un'idea! Crypto, ferma! 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 Visto che siamo intrappolati in questo posto e c'è un lucchetto che dobbiamo spaccare, perché non usiamo Luca come ariete? No, no, no! Prendiamolo! Prendiamolo! Vieni qua! Vieni qua! Ma perché non usiamo la roccia che è molto più semplice e molto più duro? No, sei più duro, Luca! Andiamo! Vai! No, Crypto, sei andato tu contro il lucchetto! Ci siamo? L'abbiamo preso? Ok! Ora possiamo colpirlo bene! Luca spero che quello sia un casco e non soltanto un cappello! Andiamo! Via! Oddio! Ha funzionato! Si è spaccato! Si è staccato! Lasciatemi! Ok, Luca, non ci serve in più! Stupido essere inutile! Vai! Vai! Spaccato! Possiamo forzare! Non abbracciarmi Luca che schifo! Ok! Fatemi passare! Oh, ci ho fatta! Credo! Dai 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 dai! Passa 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 passa! Cerchiamo di chiudere le spalle per Luca così Luca non possa più! Signor bastone! Ecco così non passi più Luca! No! Si! Non riuscirei più a passare! Crypto lascialo! Marcirà in cella per il resto dei suoi giorni! Uh! Cosa c'è qui? Una catapulta! Eh! Espy? Posso salire? Posso salire? Posso veramente salire? Ti prendo! Vai! Salta Crypto! Vai sopra! Non così! Ti sto dando una mano! Vai! Dai ce la puoi fare ce la puoi fare! Ok! Non dovevi lanciarmi? Come non devo lanciarti? Ma perché sei sulla catapulta se non vuoi essere lanciato? Serve a quello? Serve a quello? Si! Decisamente serve a quello! Wow! Hai quasi sfondato il muro Crypto sei più duro di Luca! Espy aiutami a sollevarlo che è pesantissimo! Ok! Dai che ce la facciamo questa volta! Dai! Dai! Sopra! Perfetto! Allineata! Tira tu Espy! Non ti momenti! A me l'onore! Vai! Di far fuoco! Vai! Ooooooh! Siii! Mamma mia! Non ci credo! Un po' più a destra! Espy! Cos'hai fatto Luca? Ho preparato una cosa per te! Ah! Ho fatto una piccola modifica alla catapulta! Perchè ho utilizzato il tuo palo? Ah! Posso farci un giro? Si! Ok vai sparami! Come prima abbiamo sparato Crypto! Oh! Oddio no! Cosa? Espy! Non lo sa! Ah! Dove sono? Ah! Sono fra le rocce! Ciao Espy! Lasciatevi in pace voi! Mi avete isolato dal mondo! E ora come faccio? Porca miseria! Non so nemmeno nuotare per bene! Espy! Visto che sei arrivato così lontano prima non è che riesci ad arrivare al di là del muro? Esatto! Vai sparalo via! Sparalo via! Vai! Vai! Vai vai vai! È inutile che lo fa! Oddio sono quasi andato sul tetto! Ah! Ok mi sono aggrappato! Si ce l'ho fatta! Sono entrato all'interno del castello e forse riesco ad aprire la porta da qui! Oh yes! Mi sa che ce la faccio! Noi abbiamo un metodo migliore Espy! Che metodo? Eravano le porte! Oh! Nooo! Completamente distrutto il muro! Sì! Vabbè sapete cosa? Io vi apro stesso la porta così almeno mi sento un po' utile! Forse se la spingiamo abbastanza oltre riesco ad arrivare sul tetto di quella chiesa! Ero quasi arrivato sul tetto prima! Sì! Praticamente dovete metterla praticamente sul bordo! Sì! Aiuto a spingere! Ok! Oddio un po' troppo! Aspetta! Come? Come un po' troppo! Oh cacchio! Ah Luca! Luca tira! No tienila! Tieni là! Tieni là! Aiuto! Tieni là! Dove sei crypto? Crypto è ancora appeso? Oddio! Oddio ragazzi! Arrivo! Espy! Aspettatemi! Oh oh! Ci sono! Dove siete? Ah! Ah crypto dov'è? Oh no crypto lì in fondo! Vi salverò io non preoccupatevi! Oh ho mollato la catapulta scusate! Si sta rotolando! Oh ho mollato la catapulta colpa mia! Ok! Intanto mi salvo io! E poi voi vi arrangiate! Ok! Prendimi il piede! Oh no! Ok! Ciao crypto! Sono venuto a salvarti! L'unico modo è farla partire! Ma come farla partire? E attivare la leva! No! No! No Luca! È l'unico modo! La tiro eh! No non tirare! Non tirare per favore! Oh! Oh! Hai peggiorato tutto! Vabbè mi sa che sarà l'unico che si salva da questa situazione! Tranquilli! Sì! La catapulta è impazzita! Guardate! Si sta muovendo! Sta accelerando! Sta accelerando! Non posso andare via esbi! Luca salta! Luca salta! Luca salta di tu! Non ti posso dare una mano! Provato a dodolarti a saltare! Il dondolo! Sbrigati! Nooo! Sai cosa? Mi ha stancato il tuo palo! Io salgo sul carretto di fritto! No! Vieni qua carretto! Vieni qua carretto! Ok portami il mio fedele destriero! Ah! 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 No! Maledetto cavallo! Piano! Sì! 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 No! Luca! La precedenza ce l'ha al palo! Ma cosa? La precedenza ce l'ha a espi! Esatto! Ok ce l'ho fatta! Facciamo una bella cosa! Visto che non siete capaci a fare due salti! Vi apro io la strada da qui! È vero! Ah! E tocca fare pure la babysitter! Eh! Oh! Perfetto! Entrate pure! Siete benvenuti! Benvenuti! Noi sfondiamo! Nel mio castello! Ma la smetti con sto palo! È rotto! Con sto palo! Madonna Espi! Te lo butti giù la scappa! No! Perché? Perché sul tetto? Gli dobbiamo trovare una nuova casa Espi! Te lo butto giù il palo! Te lo butto giù! Espi dobbiamo entrare! Dobbiamo infiltrarci sicuramente! Ma attraverso la finestra Luca! La finestra! Ce la fai Luca? Mi sa che sei un po' troppo qua! Eccomi! Luca ma mi sa che la porta era aperta! Perché hai dovuto entrare per la finestra? Te l'ho aperta io da dentro! Guarda il cammino per Babbo Natale! Oh che bravo! Ma hai buttato dentro! Davvero! No è tappato! Uh! Ma dobbiamo per caso! Cosa state facendoli? Smettetela! Per cortesia! Mi sa che dobbiamo prendere il volo! Queste! Queste lanterne! Io vado! Per primo! Togliti! Stavo prendendo la rincorsa! Scusate! No! Espi è troppo! Sì! Ce l'ho fatto! Aggrappatevi a me! Aspetta che mi aggrappa a te! Bravo! Sì! No! Mi sono aggrappato! Aspetta! Aspetta! Che ricorsa! Mi stai spattendo contro il tetto! No! Oh Dio! Perché ti sei buttato male! Arrivo! Dai che ti Espi! Ma no! Togliti Crypto! Adesso chi va? Ho d'oglio di nuovo? Ok! Vai Luca! Dai vieni qua Crypto! Tu sì che sei bravo! Ok! Lanciati! Sì! Mi hai preso per il coppino! Ma dai! Aspetta! Ma come non ci rimane? Aspettatemi! Ma cosa ti aspettiamo? Via! Ok! Perfetto! Espi! Un'altra antena? No! Benissimo! Grazie mille! Mi stai tirando calci alla testa! Ah! Ma smettila! Togliti! Non ce la farai! Ma che schifo! Che schifo! Che carini che si sono incastrati! Dai! Salta e tiraci su! Dai Espi che ti ho preso! Tirami! Ce l'ho fatto! Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Attento a non cadere! Dov'hai finito Crypto? Crypto? Oh! Qui in basso Crypto! Orca miseria! Oddio! Luca prendi sulla lanterna! Dai abbiamo tempo da perdere! Dobbiamo dare una mano a Crypto! Vai! Dai! Dai! Con l'altra tirati su! Oh! Espi l'ho preso! Ok! Ora venite qua che devo prendere entrambi! Dammi la mano! No! No! Togliti! Togliti! Crypto! Tirati su almeno! Tu ce la puoi fare! Crypto! Cripto! Si ha mosciato Crypto! Ok! Ce l'ho fatta! Togliti! Togliti! Smettila! Ci ho messo sacco ad arrivare fino a qui! Sto cadendo! Ma smettila! Sto cadendo! No! Disgraziato! E ora io vado! Adesso mi tiri su! Ciao! No! Adesso mi tiri su! No! Adesso mi tiri su! Eh vabbè! Eh vabbè! Ah! La mia testa! Dai che mi tiro su entrambi! Ok! Io tiro! Mi sono aggrappato e tiro! Doi! Doi! Ma come molli! Non mollare! Sì! Basta! Sì! Mamma mia! Vedi Luca! Con la collaborazione si vince tutto! Dove sta andando? Dove sta andando? Spingilo al patibolo! Dai! Spingilo! Giù! 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 Va bene dai! Utilizzalo come... Bisogna utilizzare questa cosa! No! Guardalo! Sembra berry poppins! E adesso io farò un'incredibile cosa Adesso io Salto Sì Ce l'ho fatta Vai Assurdo Assurdo Attaccati No, non attaccatevi E ora Al prossimo No Salta No, faccia attaccare Sì, mamma mia Prenditi a questo, Luca Prendimi con quello Prenditi a questo Ti avviamo Parato Lasciami, Luca Devo entrare nella ruota No, niente ruota per te oggi Guarda Si solleva la roccia Portala giù un attimo Devo misurare delle cose Ok, porto giù la roccia Perché vuoi andare avanti senza di noi? Voi cosa state facendo? Mi state facendo faticare come un muro E voi state facendo un sacco di cose Fermo, fammi mettere questa Così va bene? Possiamo buttare giù Crypto Tu non meriti di essere qui Tu sei arrivato qui soltanto con l'inganno Crypto Sei tu o non meritare di stare qui? Avevo delle misure da fare Un barile Espy Oh, barile Espy mi tiri? Ma va, ma Luca Stiamo facendo cose importanti Stiamo per fare Ma questo è uno scivolo Hai visto Crypto? Vai, lancia il barile Oddio No, 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 no Eh, vabbè Vai Dai, 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 dai Questo è buono, questo è buono Oh Ce l'ho Vai Espy Sì Dobbiamo collaborare Vai Con la cosa Non conosco quella parola Andiamo Oh, cos'è? Siamo arrivati Sulle mura più alte Guardati qua Cosa c'è C'è un passaggio segreto Tipo Come un passaggio segreto Dove sei finito, Luca? Eccomi Oh, ma c'è una torre con un sacco di scale Vai tu Anzi Andiamo insieme Andiamo insieme Sì, perfetto Ma aspetta Come facciamo ad andare insieme? Ci aggrappiamo la stessa cosa? Mi aggrappa a te Sì Ma no Non aggrapparti Ma che schifo Ok, aggrappati a questa Calta Eh, ma se si sgancia all'ultimo Vado Ah Oddio Oddio Ti l'ho visto Per favore Non posso morire così Per favore No Ma no Ma no Che schifo poi Eh, specie cripto Cripto Apri Cripto Apri Apri Stavate cincischiando Ah, adesso volete che vi apra Sì, io mi aggrappo Tirami su Tirami su E se non volessi Eh, va bene Rimaniamo qui per sempre Che domande sono Va bene, ok Allora, ok Allora Eh Guarda cosa c'è qui C'è una lanterna Siete passati? E un'altra di quelle cose mortali Faccio io, va Ma se io saltassi Ah, togliti E se io saltassi così Ah No, mi salto la catena Ok Ok, al prossimo Salta Ah Oh E vabbè Un mulino Riesco a pre... Mi sono preso il mulino Gente, seguitemi Come ti sei preso il mulino? Mi sono preso il mulino Beh, prima aspetta un attimo Sta ruotando Prendetevi Dov'è che dobbiamo andare di bello? Oh, yes Arrivo anch'io Ti Ce la posso fare Dai Tirami su Tira, 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 tira Bravo Bravo Cripto arrivo Grazie Ah, no Ecco Aiutami Tiralo su Io vado Ciao Ah Voi le vostre incudine Voi le vostre fatiche No, non potete passare Non potete passare No, non possiamo passare, eh Luca non è passato intanto Luca abbiamo trovato il pozzo di hit Vuoi farci un viaggetto dentro? C'è un secchio qui Possiamo entrare nel secchio Ok, ora Tira lo sopra la fune Sì Dai, secchio, bello Oddio, oddio, ho perso l'equilibrio Ok Dai No Dai, manca poco Ti stai attento al buco No È andato giù È il buco È il buco Aiuto Aiuto Tiratevi su Per favore No 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 Tiratevi su Tiratevi su Tiratevi su Tiratevi su Ti ricorderemo No No Sono sopravvissuto Era un legno morbido Andiamo Cripto Lui non ci merita Scappiamo insieme No Esatto Guarda Lo sarà ancora su Col suo secchio Ci sono quasi Una palla gigantesca Che stai provando a fare Espi Posso farlo tornare Le palle di roccia Sì Voglio provare a prenderla Al volo No Davvero 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 Sei lì sotto Sei lì sotto Al volo Carissimo Ma non ci credo Luca Mi sa che la palla Doveva rompere Quella cosa di roccia E tu l'hai rovinato Hai rovinato tutto Come al solito Mi toccherà saltare così Sì ce l'ho fatta L'ho tirato giù L'ho tirato giù Luca è rimasto sotto Da solo Luca è rimasto sotto Sono qua Dai lascia a te Il prossimo salto Si muove Si muove Ci ho fatta Luca Sono rimasto in piedi Una mano Dai su sbrigatevi Mi prendo un'insolazione Aspettarvi qui Io parto No Libertà No Sì No Vabbè Oh sì Mi sono aggrappato Espi Mi sono aggrappato Ma c'è un buco nel ponte Davvero È vero Nel cancello Nella grata Piano Sì Sta passando oltre Vado gente Riuscite a raggiungermi poi Ci proviamo Anche subito Un bel saltino Un bel saltino dentro Buongiorno E Crypto rimarrà fuori per sempre Mori Non mi tirare Soffoca Soffoca No Hai dei bellissimi baffi Espi Smettile una bocca Smettile di prendere unicino per la mia bocca grande Ah non guardare Crypto Non mi servono testimoni Questo omicidio Cosa state facendo Espi Ah 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 Cripto Cripto Vieni qui Finalmente Oh alleluia Posso mollarlo Fermati Ma cosa fermati Era soltanto un passatempo Perché tu ci mettevi un sacco da arrivare Dai andiamo Oh Questa è l'uscita No Ah Ah Voi siete arrivasti fuori Quindi gente Questa era la fuga L'assalto al castello Inhuman for flat in compagnia di Lugacripto Non dimenticate Lasciate altissimi piace e commenti Se volete altri video come questo E noi ci vediamo la prossima volta Ciao Ciao